Ieri il Consiglio Comunale ha bocciato il bilancio e adesso cosa succede? Ma intanto è una situazione assolutamente inedita perché c'è una regola non scritta in politica che anche quando l'opposizione o un'amministrazione alla maggioranza in Consiglio Comunale fa gli emendamenti, li approva perché ha i numeri, dopodiché lascia approvare il bilancio o comunque concorre all'approvazione del bilancio in modo da garantire l'ente Stavolta invece i consiglieri di centrodestra dell'opposizione hanno esagerato nella loro polemica e hanno compiuto un atto di gravità assoluta perché dal primo di novembre, cioè oltre il termine di legge che imponeva di approvare il bilancio entro il 31 di ottobre, bisognerà sospendere i servizi essenziali questo significa che il Comune da quel momento in poi fino all'approvazione del bilancio che verrà fatta da un commissario regionale dovrà erogare solo i servizi essenziali che sono dei servizi elencati nella normativa Poi si è detto anche che anche i precari che dovrebbero essere stabilizzati, ci doveva comunque procedere una programmazione avranno un danno da questa bocciatura? Beh, intanto dovremo sospendere probabilmente alcuni servizi che sono ritenuti non essenziali come l'assistenza domiciliare agli anziani e l'asilo nido poi dovremmo tagliare tutte le risorse fino all'approvazione del bilancio in alcuni settori come lo sport per cui per esempio verrà staccato il lampione, i lampioni che illuminano di sé il campo sportivo Sant'Ippolito e anche il palazzetto dello sport verrà usato solo per le gare di campionato e non per gli allenamenti Oltre a ciò il problema dei precari è indiretto, nel senso che noi abbiamo costruito un percorso siamo forse il Comune più avanti in questo in Sicilia per bandire entro fine anno un concorso che possa consentire la stabilizzazione forse a tutti i 98 i nostri precari ma i tempi di un concorso sono molto stretti e tutta l'iter può partire il giorno dopo l'approvazione del bilancio se fosse stato approvato ieri già da stamattina si sarebbero potuti mettere in campo gli atti per le stabilizzazioni adesso dovremo aspettare una data che non conosciamo perché il commissario potrà essere nominato subito, potrà essere nominato ai primi di novembre potrà decidere di approvare il bilancio subito, potrà impiegare alcuni giorni quindi tutto questo riduce i margini di tempo entro i quali dobbiamo compiere tutti gli atti se vogliamo procedere alle stabilizzazioni riduce e potrebbero anche non esserci tempi per compiere questi atti allora cosa succede? non voglio pensarci attualmente la normativa stabilisce che si può procedere alle stabilizzazioni entro il 31 dicembre 2012 ed è una normativa nazionale se non viene cambiata questa normativa e se si dovesse andare oltre il 31 dicembre 2012 probabilmente non potrebbero più essere effettuate le stabilizzazioni a tempo indeterminato questo con la normativa attuale questi sono i problemi amministrativi dal punto di vista politico invece qual è la tua idea? la mia idea è che viene confermato, anzi purtroppo in maniera decisa il fatto che questo centrodestra che è presente in Consiglio Comunale rappresentato da questi otto consiglieri comunali che oggi fanno riferimento al MPA, al Grande Sud e al PDL è assolutamente inadeguato ad affrontare i temi amministrativi di gestione di una città perché hanno anteposto interessi piccoli di parte e hanno piegato alle loro spaccature interne gli interessi superiori della città anche quando la polemica è durissima comunque si è sempre fatto in modo di sovraguardare gli interessi della città qui invece si dimostra l'assoluta incapacità di trovare tra loro un accordo per un obiettivo che non fosse un obiettivo contro, di distruzione e poi l'incapacità di gestire le situazioni come è stato evidente a tutti coloro che erano presenti in Consiglio Comunale se malauguratamente questo tipo di compagine avesse governato in questi anni o dovesse governare in futuro una città complessa come piazza credo che sarebbero veramente tempi duri avesse governare in futuro avesse governare in futuro avesse governare in futuro avesse governare in futuro